Piacere, io sono RoboCubo. E loro sono RoboCube e quello. Mi forniamo gustosi metteri, confetture e zuppe. Siamo tecnologia al servizio della qualità e preserviamo la freschezza degli ingredienti. Ecco come. Ecco come. Ma la vera magia è avvenuta dietro l'acquario. Selezioniamo la migliore frutta e verdura del territorio, che poi viene preparata e pulita a mano. Trasformiamo le idee dei nostri chef in marmellate nel terreno superiore. Volete sapere di più? Entrate per una visita all'acquario.